La capolista è tornata a correre dopo i veleni di Pesaro, risposta puntuale e significativa. Domenica prossima alle ore 15 impegno sul campo dell'Arezzo, diretta e in chiaro sul Rete8 con ampio pregare a partire dalle 14. Al rientro dalla scolifica Nicola Squizzato sarà la prima di tre sfide in otto giorni. Giovedì 21 novembre alle 20.45 il recupero Casalingo col Milan, lunedì 25 di nuovo all'Adriatico Giovanni Cornacchia, ore 20.30 contro il Pineto. Primo posto consolidato, soprattutto vantaggio incrementato, più tre sulla Torres, più cinque sulla coppia, Ternana e Intella. C'è un dato da rimarcare di fondamentale rilevanza, ben 21 punti su 32 grazie alle palle inattive. In particolare il Pescara sfrutta benissimo i calci d'angolo a suo favore, è successo con la Pianese. Partita decisa al minuto 93, corner di Moruzzi, autogolla di Paciardi. Il 26 settembre a Chiavari, angolo di Meazzi, colpo di testa vincente di Valzania. Pescara Carpi 2-1, punizione di Squizzato, tocco risolutore in mischia di Brosco, determinante anche a Ferrara. Al minuto 75 su calcio d'angolo, battuto da Ferraris. Nel novero delle palle inattive bisogna considerare anche i rigori, quelli calciati con successo a Lucca da Merola e Tonin. Gara vinta 3-1 dei Bianchezzurri. E poi la rete che decide Pescara-Pontedera. Al minuto 96, autore De Marco su corner, calciato da Cangiano. E da ultimo il piazzato da tre punti di Tuniov, nell'ultimo match col Sestri-Levante. Dunque il Pescara-Targato Baldini può vantare anche questa risorsa. Ribadiamo 21 punti su 32, ovvero i due terzi del bottino totale. Percentuale da urlo sulle palle inattive. Nella storia recente, Pescara mai così letale.